bentornati divini e divini sul mio canale oggi facciamo una stesa vortice su una delle domande che mi sono arrivate ultimamente più frequenti e quindi mi viene da dire facciamone una lettura chiedendo agli angeli chiaramente di darci il loro punto di vista e allora dei suggerimenti chiaramente come sempre come sempre se sentite la lettura non vi risuona o sentite qualche innesco ecco ascoltate l'innesco quindi dovete andare a lavorare sull'innesco se invece non vi risuona non vi dice niente lasciate andare se invece vi risuona ecco allora vuol dire che qui c'è un messaggio per voi ecco importantissimo questo punto di vista mi è stato chiesto come mai l'unione tra le fiamme è così difficile andiamo a chiederlo agli angeli andiamo a vedere che cosa ci dicono riguardo a questo in realtà è un viaggio come dico io sempre prima che di coppia è individuale è un viaggio verso la propria divinità ecco perché è così difficile questo è diciamo la risposta immediata sappiamo che un viaggio alla riscoperta del sé divino quindi se è un'unione sacra non è un'unione che risponde dei canoni umani anche se poi si manifesta sulla terra secondo dei canoni umani non è una relazione che segue i canoni umani un po come quando si dice no siamo in questo mondo ma non siamo di questo mondo le relazioni che stanno per essere create nella nella nuova terra nella terra rinnovata nella 5d non sono relazioni come quelle che noi abbiamo sempre vissuto fino adesso perché sono sempre state diciamo relazioni o carmiche per chi appunto ha un'anima gemella anima gemella ma comunque non sono relazioni ancora diciamo 5d la fiamma gemella ecco perché ce ne sono pochissime riguarda una relazione divina divina e quindi ovviamente che non cresce dai canoni umani anche se viene vissuta su questo piano perché noi sappiamo che il 3d la 5d si stanno unendo non che la 3d viene sbalzata via e c'è solo più la 5d no la 5d plasma nella 3d forme nuove forme nuove di relazione che siamo noi fiamme che dobbiamo andare a sbloccare far entrare nei nei canoni quindi anche i canoni devono essere forgiati canoni come dire gli schemi le i programmi ecco devono essere ricreati riforgiati in base alla 5d quindi la mente deve allinearsi alla 5d e non il contrario quindi insomma è la mente che deve cambiare le sue la sua struttura deve modellarsi sull'energia dell'anima ed è proprio per questo che la grandissima difficoltà nel creare l'unione fisica è perché effettivamente il cammino per diventare divini è difficile è una delle cose più difficili siamo qui proprio per questo e quindi vediamo che cosa ci dicono però è possibile chiaramente perché sennò non lo vivremo allora vediamo un po e siccome diversi di voi mi hanno fatto questa domanda probabilmente può essere utile diciamo farne una lettura collettiva chiaramente ognuno la ricepirà a suo modo con la sua vibrazione e per quello che le serve ecco perché le stesse parole arrivano a tutti ma poi vengono assorbite in base alle vibrazioni che ognuno ha quindi ci sono quelli che le rifiuteranno e ci sta non c'è nessun errore ci saranno quelle che le prenderanno parzialmente e ci sta non c'è nessun errore qualcuno invece ne assorbirà totalmente e ci sta perfettamente quindi non c'è errore semplicemente c'è quello che si è punto ok mettiamo anche un oracolo su ecco ne sono state rimaste in mano due va benissimo e allora vediamo che cosa ci dicono gli angeli al riguardo allora guardate che meraviglia qui è proprio il sì che cos'è che cos'è l'unione sacra è proprio andare oltre andare oltre per una nuova vita che si manifesta attenzione su questo piano qua c'è proprio la manifestazione di questa unione sacra per cui il mondo è pronto il mondo è pronto proprio per creare nuovi modelli e lo stiamo facendo noi fiamme ognuno di noi e lo sta facendo a suo modo perché non vuol dire che solo le fiamme diciamo lavorano per il nuovo mondo ma stanno mettendo nel mondo in atto l'anima quindi stanno facendo in modo che nella coscienza collettiva entri questa nuova modalità di relazione sacra creando delle manifestazioni a livello appunto di modellamento di nuovi schemi che creeranno un nuovo modo di vivere le relazioni che non è così non è più così raro quindi le relazioni nella nel mondo in cui c'è 5d e 3d uniti chiaramente saranno più relazioni sacre per chi sarà pronto chiaramente per chi non è pronto no ma comunque entrerà nella modalità di vissuto a livello 3d ma un 3d trasformato in cui non c'è più la rigidità del karma non c'è più la separazione ma c'è una manifestazione dell'energia dell'anima e quindi chiaramente ci sono sono siamo pronti è come sta dicendo che ci siamo pronti per rendere questo nuovo inizio materiale 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 eh sì guardate come si fa a essere pronti per questo nuovo inizio prima di tutto guardate c'è proprio il senso di andare a creare qualcosa di assolutamente un po come se fossimo dei bambini andare a creare un lavoro di equilibrio interiore attraverso l'ascolto di ciò che non non si può dire o non si può vedere ancora qualcosa che ci impedisce di dire di proferire verbo verbo nel senso qua c'è proprio come se fosse una sorta di maledizione che ci blocca non c'è nessuna maledizione c'è il c'è la nostro la nostra incapacità di vedere la nostra anima questo ci tappa la bocca questo fa uscire parole non d'amore adesso è il momento di cambiare c'è il passaggio da essere bambini immaturi da andare a come dire attraverso un lavoro di equilibrio su ciò che appunto è l'ombra dentro di noi ricordatevi che allora quello che mi viene da dire nel vangelo ricordo che c'è che veniva detto non c'è nulla al di fuori di voi che può sporcarvi quello che sporca che è sporco esce dalla vostra bocca guardate quello che è dentro di noi quindi attenzione il cambiamento deve avvenire dentro di noi attraverso una situazione di guarigione la guarigione come possiamo essere pronti per questo nuovo inizio e tanti lo sono e attenzione che siamo proprio un momento di passaggio di estremo cambiamento perché perché si sta facendo questo processo di maturazione sulle ombre un lavoro interiore che io dico sempre bisogna prendersi la propria responsabilità la responsabilità della propria energia andare a guarire i nostri blocchi se non siamo capaci ci facciamo aiutare ma ecco un lavoro costante su quello che è appunto prima di tutti i blocchi che possono essere le ferite noi sappiamo che le ferite sono sempre quelle le cinque ferite dobbiamo andarle a vedere guarirle andare a sciogliere i legami del karma andi a andare a spostare lo sguardo dal vedere fuori al vedere dentro quello che vedo fuori lo vado a guarire dentro questo ci viene richiesto quindi un grandissimo processo di guarigione ecco perché è così difficile qua mi sta dicendo siamo pronti per realizzarlo ma chi non ha fatto questo passaggio non può essere pronto per il nuovo inizio quindi se è vero che quando si dice che appunto siamo in un momento spiritualmente potentissimo noi dobbiamo fare la nostra parte chi è che sta combattendo qualcuno al di fuori di noi o siamo noi che interiormente dobbiamo fare i conti tra quello che appunto ci trascina verso il basso e ci impedisce di andare verso l'alto dentro deve essere fatta la guarigione dentro di noi non dobbiamo pensare di guarire gli altri dobbiamo guarire noi stessi questo è la nostra è il nostro la nostra missione individuale chi in un modo che in un altro abbia fatto tantissime registri acasici meraviglioso vedere quali sono le missioni su questo piano di ognuno ognuno nel suo modo ma ecco la missione avviene dentro di noi poi chiaramente verso gli altri perché se noi teniamo tutto a livello energetico ma non facciamo l'azione noi non integriamo il 3d non integriamo l'energia maschile quindi anche qui di nuovo maschile e femminile si devono unire spirito e materia si devono unire anima e materia e quindi creare l'unione l'equilibrio questo è il nuovo mondo vivere la l'anima su questo piano trasformando questo piano forgendo e modellando questo piano sulla energia dell'anima e quindi ci vuole tanta forza tanta creare la pace interiore quindi quando io ho continui dolori continue sofferenze continue sfide non vuol dire che sto sbagliando vuol dire che sono in un momento di grazia perché perché mi viene chiesto di guardare il motivo il significato di quelle sofferenze come mi sto sentendo che ferita è stata innescata perché mi sento in questo modo il lavoro va fatto a livello della mente che io dico sempre è la mente ferita non l'anima quindi prima di poter andare a diciamo liberare l'anima quindi andare a creare a seguire coscientemente consapevolmente il piano divino chiaramente devo fare un lavoro di pulizia di tutti i blocchi e questo a livello della mente e quindi è fondamentale proprio prendersi la responsabilità delle proprie montagne guardate la forza di dover andare a creare pace laddove io sono sfidato laddove io sono pieno di blocchi di problemi ci vuole forza la forza della pace la forza dell'ascolto di se stessi la forza del lavoro interiore di diventare presenti a se stessi così andiamo a liberarci da quelli che sono guardate i desideri che derivano dalle mancanze dai blocchi e dalle ferite attenzione che il desiderio non è di per sé negativo quindi diciamo c'è è connaturato all'anima umana scusate alla vita umana ma ecco quando io allineo i miei desideri all'anima a quel punto io so che l'azione che farò sarà guidata appunto da questo desiderio dell'anima come posso sapere se i miei desideri sono egoici o dell'anima prima devo fare tutto il lavoro di pulizia perché se no io confonderò sempre quello che è l'ego con i desideri dell'anima no dirò ok questa persona la devo assolutamente avere perché sento dentro questo legame interiore in realtà è un legame dettato dal karma quindi un legame di sofferenza magari eh vi sto dicendo nel caso per esempio di relazioni karmiche tante volte si scambiano le relazioni karmiche inizialmente con un legame di fiamma gemella perché si sente questo legame di familiarità si sente questo legame profondissimo che ti impedisce di pensare ad altro e non è l'anima in questo momento in questo caso ma sono i legami energetici creati nelle vite precedenti quindi ci si sente quell'ossessione quel legame profondo proprio perché in realtà c'è un riconoscimento ma è un riconoscimento delle vite già vissute con quella persona quindi c'è il senso di familiarità che è però molto diverso da quello della fiamma gemella quindi tante persone sono convinte di essere un legame di fiamma gemella ma sono magari in relazioni karmiche e lo è per il 97% delle volte ma questo non vuol dire che non siano importanti questi legami perché perché io attraverso quel legame di sofferenza di sfida io vedo me stesso vedo me stesso se faccio ovviamente un lavoro interiore se non lo faccio vedrò sempre l'altro come causa dei miei problemi e qui mi sta dicendo se attraverso il seguire quello che l'anima ti spinge a fare anche se si è legati a desideri egoici in quel momento quel desiderio egoico probabilmente ti spingerà ad una sfida ti mostrerà la montagna perché tu possa fare pace attraverso una forte azione su te stesso quindi il desiderio siamo guidati prima dal karma perché così se no certe cose non le faremo affatto non ci metteremo mai magari con determinate persone se sapessimo effettivamente che cosa ci portano ma ecco il karma questo desiderio profondissimo ti spinge a dover soddisfare quella cosa perché è una lezione che devi imparare poi piano piano quando si pulisce diciamo tutta l'energia il karma principale si lascia andare allora lì possiamo veramente capire che il desiderio dell'anima è un'altra cosa ci porta laddove dobbiamo andare direttamente senza tante vie traverse e quindi insomma la guida ce l'abbiamo qua mi sta dicendo e ci vuole tanta pazienza perché il cammino è duro è duro quante fiamme mi dicono sto facendo diciamo sto attraversando un momento difficile incredibilmente difficile con l'altra persona ma anche proprio individualmente perché ricordiamoci che prima della coppia c'è il cammino individuale le fiamme devono andare avanti individualmente per trovare se stesse ecco perché c'è la separazione fin quando non si trova se stessi non si può stare in due ok quindi per questo che è molto difficile è un cammino di iniziazione bisogna diventare capaci di amare divinamente ecco perché è difficile ecco perché tanti ti dicono no ma l'amore l'unione non si può ottenere perché non ci sei arrivato punto perché l'unione fisica è proprio parte di quel l'anima che partorisce sulla terra dobbiamo creare nuovi schemi di relazione saranno sempre schemi ma saranno più flessibili perché saranno modellati all'anima completamente diversi da quelli che stiamo vivendo adesso o comunque la maggior parte vive quindi va vissuto fisicamente ma prima di arrivarci quelli che ci dicono che non ci arriviamo perché loro non ci sono arrivati e non ho ancora capito come mai e continuano a dire che non si può si può si deve in realtà non è un dovere è un dovere animico è un essere animico ma ci vuole un cammino di iniziazione personale individuale talmente difficile che ovviamente a volte cioè sempre ci vogliono più incarnazioni quindi quando ci incontriamo dobbiamo stare insieme ma poi bisogna vedere se riusciamo a esserlo definitivamente e quindi se non basta un'incarnazione ce ne sarà un'altra quelle fiamme si rincorrono perché è un cammino di iniziazione che come dico sempre dura più vite ma noi sappiamo che la vita è le vite sono simultanee quindi tutto avviene adesso anche le vite passate avvengono adesso quello che stiamo che stiamo perseguendo come futuro sta accadendo adesso è un cammino nell'adesso adesso ogni momento deve essere vissuto come un'eternità perché è l'eternità adesso ho questa sfida mi concentro su questa sfida adesso ne ho un'altra mi concentro su questa se io continuo andare fuori di me non sarà mai presente e quindi non sarà mai nell'anima e quindi per questo è così difficile ma questo cammino crea crea materialmente quindi vedete che non è vivere l'anima a un livello astratto perché quelli che vi dicono che non c'è l'unione fisica vi stanno dicendo che esiste che chi se ne frega del 3d l'energia maschile chi se ne frega è un viaggio animico no è un viaggio animico che essendo il maschile e il femminile un tutt'uno non posso dire che il maschile la manifestazione non è prevista perché starei dicendo una bestialità maschile e femminile sono un tutt'uno sono parte della stessa sono solo la stessa energia quindi con sfaccettature diverse se io dico che il cammino dell'anima è solo femminile quindi solo dell'anima io sto in realtà separando quindi sto facendo un lavoro di separazione sto facendo un lavoro in realtà karmico sto dicendo una stupidaggine karmica sono ancora nel karma chi vi dice questo è nel karma ok perché la manifestazione fa parte del cammino è parte del cammino è il cammino ok vediamo la vibrazione è assolutamente alta qua mi stanno dicendo che la vibrazione deve essere altissima quando io sono in unione animica con la mia fiamma energeticamente sono una vibrazione altissima che creerà a sua volta una manifestazione altissima ma la manifestazione c'è quindi qua bisogna avere una frequenza altissima che deriva proprio dal imparare le lezioni del karma quindi il karma in realtà è benedetto perché fa parte di uno step è uno step per l'evoluzione chiaramente devo farne tesoro devo farne tesoro sulla schiena della tartaruga che ci parla appunto di completezza ci parla di Atlantide ci parla di vivere le cose con la legge sapendo che tutto è animico sta nuotando questo tesoro cosa vuol dire? che il karma di per sé un po' come quando ci succede qualcosa di spiacevole o che sfortuna no in realtà è uno step che se visto se galleggiasse sull'acqua cioè con la consapevolezza dell'anima sapresti che in realtà è un gradino che deve essere salito e ti porta su quindi non è una sfortuna è una sfida semplicemente deve galleggiare però sull'acqua sulla consapevolezza sulla sulla negli occhi della papessa praticamente tutto deve essere visto con gli occhi della papessa e porterà tutto questo sotto la lente di ingrandimento di tutti del del mondo qua c'è il il david c'è la perfezione dell'anima che si materializza così solidamente ad essere una statua perfetta ma materica pesante 3d qua si deve mostrare tutta questa energia imparando le lezioni porterà la manifestazione piena e totale qua c'è un bel numero 8 quindi la totalità attraverso la trasformazione di ciò che è visibile sono e viene mostrato agli altri numero 2 e qua c'è la piena intimità della coppia che si manifesta solidamente concretamente ma con una vibrazione altissima quindi quando mi dite è difficile è quanto ci mette sono già tre anni che sono non contate il tempo perché il tempo non esiste esiste adesso come sono adesso affronto la mia sfida e ci possono anche volere un sacco di anni chi se ne importa siete qua per questo quindi ecco importantissimo entrare nell'ottica del lascia andare il tempo le aspettative le frustrazioni il controllo perché fa tutto parte appunto ancora di dinamiche 3d esclusivamente 3d mentre noi dobbiamo modellare il 3d sul 5d e quindi dobbiamo entrare nell'ottica dell'amore animico che si realizza attraverso la trasformazione abbiamo detto numero 8 la casa astrologica numero 8 è la casa dello scorpione è la casa di plutone che distrugge per poter far rinascere la fenicia dalle ceneri e quindi ovviamente dobbiamo lasciare andare plutone è proprio l'energia del 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 lasciare andare è proprio la simbologia della ferita d'abbandono è il lasciare andare dinamiche schemi aspettative blocchi paure controllo solo facendo questo io posso andare a crescere guardate qua crescere e manifestare con una forza focalizzata qua c'è proprio focalizza la tua energia su quella cosa come posso focalizzarla se sono disturbato da paure problemi schemi blocchi ferite come posso quindi devo fare prima un lavoro della mente sulla mente sui blocchi su tutta la consapevolezza e poi entrare nelle dinamiche dell'anima andando a lasciare andare tutti quelli che sono gli schemi ecco perché è così difficile devo diventare ecco essere in una relazione animica come una fiamma giamella è essere in unione con Dio è essere nella vibrazione di Dio e allora qualcuno mi dirà eh allora non ce la faremo mai no non è vero se noi passiamo nella vibrazione del cuore noi siamo nell'amore di Dio noi già siamo amore divino dobbiamo solo andare a liberare il cuore da tutte le barriere da tutte le corazze da tutte le paure da tutte queste cose che appesantiscono noi siamo già particella divina dobbiamo solo riconoscerci riconoscere chi siamo ricordare chi siamo ed entrare nell'amore passare dalla mente l'amore della mente l'amore karmico 3D e quindi vivere nel 3D ma vivere l'amore del cuore se entriamo nel cuore noi siamo già nell'amore di Dio mi veniva in mente quella che era la parabola del figlio al prodigo cosa significa quello essere nel Dio allora prima di tutto noi sappiamo adesso per chi non la sa c'è questo questo figlio che chiede al padre dammi tutti i miei averi perché voglio fare la mia vita so stufa in realtà era già nella casa del padre quindi di nuovo se vi ricordate ne ho parlato del viaggio il viaggio dell'eroe nella mia lettura riguardo al viaggio dell'eroe del maschile chi non l'ha sentita invito a andarla a riascoltare era già nella casa del padre cosa fa se ne allontana perché perché in realtà essendo tutt'uno col padre deve trovare se stesso quindi in realtà è un po' diciamo siamo noi scordiamoci che i libri sacri parlano di tempi antichi di tempi parlano di noi di te adesso quindi attraverso l'allontanamento dalla casa del padre vai a fare tutte quelle avventure terribili perché poi è andato persino a mangiare le ghiande cos'erano le dei porci perché non aveva smaltito tutti i suoi sui soldi sui denari tutta la sua ricchezza era stata proprio dilapidata quindi le difficoltà solo nel momento in cui arriva la consapevolezza della separazione perché il padre è me che gli ha detto no ti prego rimani con me e gli corre dietro lo va a trovare vieni e lo va a convincere no rimane a casa rimane a casa quando entri nella divinità nella tua vibrazione divina non vai a rincorrere nessuno perché sai che in realtà quella persona già è nella casa del padre deve solo rendersene conto deve realizzare attraverso tutti questi cammini carbici tutte queste prove tutte queste sofferenze deve realizzare la sua divinità e ciò avviene proprio attraverso la separazione la la sofferenza ognuno di noi che fa questo questo gesto no di allontanamento dalla casa del padre ognuno di noi non sto parlando del maschile non sto parlando tutte e due ma nel momento in cui realizzi chi sei torni nella casa del padre e ti rendi conto che non sei giudicato non sei giudicato il padre non è che lo aspettasse nel senso di aspettativa sapeva sapeva che sarebbe tornato prima o poi non ha mai forzato nulla ha lasciato che vivesse la sua situazione quindi se in questo caso trasponiamolo col femminile e il maschile se il femminile che solitamente arriva prima alla diciamo a scoprire diciamo è più collegata no proprio come energia all'anima diventa casa aspetta ma non aspetta nel senso oddio quando arriva no non è aspettare è sapere è sapere che cosa siete sapere che lui è già arrivato ma perché poi quel cammino l'avete fatto anche voi uscite dal giudizio ecco io aspetto lui si fa tutte le cose perché poi me lo vedo me lo sento sento tante quelle bestialità che veramente non avere non ecco allora il padre cioè colui che è entrato nel cuore quindi il femminile che solitamente per primo fa tutte queste cose che ha fatto anche l'altro cioè non non il femminile santo e l'altro no siamo noi siamo noi che si siamo allontanati dalla casa del padre ma il femminile solitamente essendo più appunto energia femminile rientra più facilmente per primo perché sta al femminile creare l'energia rientra a contatto con il padre quindi rientra a contatto col divino e diventa quel padre che aspetta il figlio e il prodigo diventa siamo noi quel padre dobbiamo essere noi quel padre essere nella casa del padre significa sono tutt'uno col divino e lascio che ognuno faccia la sua esperienza per poter essere di nuovo non tornare o diventare no lo sono già siete già siamo già divini siamo già uno col padre ma ognuno deve fare il suo passaggio deve fare il suo viaggio quindi il femminile che arriva per primo alla sconsapevolezza della sua divinità non giudica sa che prima o poi anche il maschile torna perché siamo uno ma è giusto che ognuno possa avere i suoi tempi i suoi modi di consapevolezza quindi arrivare a sapere che l'uno è già c'è già ma ecco senza forzature senza arrabbiature senza giudizio quello essere divini e secondo voi quante ce ne sono di persone che fanno questo pochissime è per questo che le fiamme gemelle sono pochissime ma in realtà tutti arriveremo a essere questo ma adesso il passaggio viene fatto da quei pochi che comunque cominciano introdurre nel 3D delle dinamiche 5D e è difficile molto difficile quindi uscite dalla dalla situazione del io sono già perfetta quindi lui lui è terribile no non è così no usciamo dal giudizio usciamo dalla separazione già una persona che si considera perfetta in realtà di lavoro ne ha tanto da fare però ecco io dico anche la consapevolezza ok sì ok sono consapevole di quello che ho raggiunto ma ecco se giudico l'altro vuol dire che ancora non l'ho raggiunto se invece mi entro nell'unione e so che l'uno esiste e sarà manifestato è manifestato allora non ho più quella bisogno quel controllo perché poi torna la situazione ritorna all'uno è quello che è il ritorno all'uno alla difficoltà è per questo che è così difficile ma tanti mi dicono ma come si fa ma non è possibile invece sì siamo qua per questo quindi qua il karma guardate karma chiuso karma chiusura completa per il nuovo totale il giglio è il simbolo proprio della purificazione che porta proprio a una relazione completamente qua la porta si chiude il karma si chiude e si manifesta appunto il nuovo attraverso il rilascio del passato si fa il salto il salto e qua c'è il cuore fedele già l'uno esiste ed è la pienezza la pienezza dell'unione sacra vediamo un po' eh sì guardate qua c'è il maschile il maschile è la manifestazione la manifestazione arriva a plasmarsi in base all'energia delle stelle qua c'è la creazione maschile e femminile che creano e la manifestazione arriva creano quello che è guardate di nuovo la manifestazione l'energia maschile l'energia maschile sacra è quella che protegge sostiene incoraggia e da proprio come dire da confine manifesta la manifestazione avviene come protezione quindi diventerà assolutamente una relazione in cui il maschile nella sua saggezza totale manifesterà quella che è la saggezza dell'anima quindi sarà un dare forma all'anima e sarà qualcosa che sarà visibile a tutti entrerà nella comunità sarà un vivere improntato su queste relazioni perché il nuovo mondo sarà fatto di queste relazioni non quelle karmiche e tutto dipende appunto dalle lezioni che vengono imparate quindi qua avviene proprio il senso del siamo qui nel tempo per in realtà delle lezioni che sono delle vere proprie benedizioni ma solo se le vediamo con gli occhi dell'anima io non so se mi sono riuscita a spiegare spero voglio pensare di sì vi ringrazio della vostra attenzione divine divine alla prossima lettura un abbraccio